Mario ancora caro cosa stai facendo? stai bene qua sotto? ah stai facendo quello delle macchinette? ah la lenda roba dov'è Rikki? Rikki è stato qua ah perdi l'aspetta Rikki? cosa stai facendo? eh cos'è? altra eh no ma come mai è quasi tutto giallo Rikki la maglietta? qua Rikki amore com'è la maglietta gialla? ha finito le batterie quel treno là eh ma guarda non corre più è finito le batterie sono finite lo prendi tu? eh ma non sai dove... no Rikki non sai dove sono? lo sai? lo sai? lo sai carro oh ma non metterci lo scotch pericoloso oh scusami Rikki quando un buco hai detto che lo devo è dentro sulla ma... eh se c'è il buco sulla batteria è un pericolo ma nooo che disastro che ha fatto sei stato tu? hm? dì la verità eh caro tesoro Rikki mi sconno io e ne ha un'istata ha un capito ha un capito ha un capito Grazie a tutti.